Un occhio alla ricerca e uno all'innovazione. Alla centro la cucina napoletana, perché no, una delle più buone e amate nel mondo. In sintesi è questo il filo conduttore del libro Le ricette di Napoli, a firma di Luciano Pignataro, edizioni Ippogrifo. Il giornalista del mattino raccoglie le ricette partenopee uscite sul suo blog, uno dei più antichi e longevi della gastronomia italiana. È stato molto facile perché a Napoli, per fortuna, la tradizione è ben coniugata all'innovazione. Abbiamo una serie di trattorie, di pizzerie che difendono bene quella che è la storia gastronomica della nostra regione, della nostra città, ma al tempo stesso abbiamo anche tanti giovani che hanno studiato fuori, che tornano con delle tecniche e che propongono quindi delle cose in maniera innovativa. Dal 1995 Pignataro cura una fortunata rubrica di enologia sul quotidiano più importante del mezzogiorno. Il nuovo libro sintetizza un lavoro di sette anni ed è testimonianza della cultura gastronomica partenopea, un classico che ogni casa deve avere con ricette di famiglie e ristoranti, di trattorie e agriturismo, un manuale imperdibile per chi ama mangiare bene. In questo momento noi stiamo girando per promuovere appunto il libro Le ricette di Napoli. È in uscita una guida, anzi, sulle trattorie di Napoli che è anche questa parte dal blog. Luciano Pignataro nel 2008 ha vinto il premio Luigi Veronelli come migliore giornalista emergente dell'anno nel settore. Dal 1998 collaboro con la guida I Ristoranti d'Italia, pubblicata dall'Espresso. Coordinatore per Slow Wine in Basilicata, Calabria e Campania è tra i collaboratori principali della guida edita da Slow Food Editore e autore di numerosi volumi sulla cultura enogastronomica campana.